La storia di Fatima. Canalizzazione 1. Lisbona, Portogallo, 13 settembre 2017. Vi saluto, miei cari. Io sono Crayon del Servizio Magnetico. Voglio che percepiate l'energia in questa sala. Dio è bene, Dio è benevolente, Dio è amore, Dio vi conosce. Dio è bene, Dio è benevolente, Dio è amore, Dio vi conosce. Miei cari, c'è così tanto da dire qui, in questo luogo bellissimo, in cui presenziano le anime antiche. Ma la storia è molto bella. Più tardi, durante la giornata, vi parlerò di alcuni dettagli riguardo a ciò che accadde a Fatima, ma adesso voglio renderla una storia personale. Mi trovo in Portogallo. Ci sono alcuni luoghi su questo pianeta che sono noti per il loro interesse nella spiritualità. La prendono molto sul serio e le loro tradizioni sono forti. Questo è uno di essi. È il motivo per cui ci troviamo sulla sedia e vi parliamo. Perché un'anima antica in Portogallo lo sa e voi avete visto molte cose. Ma voglio parlarvi di qualcosa di personale, voglio rendere viva la storia. Voglio parlare di quella bambina, Lucia. Parlo con un linguaggio comune, non con un linguaggio biblico, con un linguaggio informale, riguardo a una bambina di nome Lucia. Lucia e due dei suoi amici ebbero un'esperienza straordinaria, nel 1917. 1817. Lei vide un angelo e anche i bambini insieme a lei lo videro. Bellissimo. Lei non ebbe alcuna paura. Era glorioso. Lucia sentì l'amore del Dio dentro di sé e del Dio che lei conosceva. Doveva essere ciò che lei conosceva e di cui le avevano parlato sin dalla nascita. Un'energia così materna doveva essere la Vergine Maria. Per lei divenne la Vergine Maria, così come per molti altri. Lei lo vide. Non solo lo vide, ma ebbe una conversazione con questo meraviglioso essere angelico. L'essere chiamato l'angelo la irradio di amore. Era così meraviglioso. Le scritture non vi riportano tutto ciò che fu detto, ma tra le cose che furono dette a Lucia c'erano delle profezie. E allora fermiamoci proprio adesso, interrompiamo la storia. Perché sarebbe stata scelta una bambina per vedere tutto questo? Vi dirò qualcosa, miei cari, in merito alla tradizione. Vi dirò qualcosa riguardo alla differenza tra un bambino e un adulto. Un bambino vedrà l'amore tanto velocemente quanto lo farebbe un adulto, perché l'amore è universale, ma a volte un adulto non avrebbe mai visto un angelo, perché ci sono dei pregiudizi nell'insegnamento riguardo a chi sia concesso di vedere gli angeli e a chi no. Se l'angelo fosse apparso a un adulto, a prescindere da quanto fosse spirituale, ci sono buone probabilità che l'adulto non lo avrebbe mai visto. Perciò, accade al bambino, che non ha pregiudizi, che è innocente nel mondo, che non è ancora addestrato su ciò che può o non può vedere. Anche gli amici di Lucia lo videro. Non c'era alcun dubbio. Soffermatevi per un momento a pensare a queste cose. E se voi foste Lucia? Come vi sentireste rispetto al fatto di essere stati scelti? Ma Lucia non ci pensò. Lei era semplicemente felice e appagata di poter parlare con un angelo. Non c'erano regole. Non sentì una mancanza di autostima, non analizzò la situazione. Si sedette e sentì l'amore di questa stupenda, meravigliosa energia. La Vergine Maria che parlava una bambina. L'angelo disse a Lucia che sarebbe tornato ogni mese per un periodo e che avrebbe parlato a Lucia e agli altri bambini, che ci sarebbero potuti essere dei miracoli, dei messaggi e di tornare dopo un mese. E poi l'angelo scomparve. Se voi foste Lucia, che cosa pensereste? È facile. Non vedo l'ora di tornare tra un mese. Ci sarò, con i miei amici. È meraviglioso. Ma se voi foste un adulto e ci credeste, vi alzereste immediatamente in piedi e lo analizzereste. Beh, è accaduto? Perché me? Non sono degno di questo. Probabilmente è stato solo un sogno visionario. Non sono sicuro di tornare. Ma la bambina Lucia, lei conosceva la verità dell'amore. Non aveva ancora la razionalità per analizzarlo e ritornò. E l'angelo apparve di nuovo e parlò a Lucia e ai suoi amici. Ci fu uno scambio di amore, di bellezza, di energia miracolosa. Crayon, è accaduto davvero? Oh, sì. Oh, sì. Ascoltate, miei cari, gli angeli sono apparsi agli esseri umani da eoni, ancor prima di Mosè e del roveto ardente, molto prima che l'angelo apparisse alla madre vergine ed eccolo accadere di nuovo. Una forma angelica meravigliosa, che Lucia chiamò la Vergine Maria, la incontrò di nuovo. Voi siete Lucia, a che cosa state pensando? È così bello. Lo racconterò a qualcuno, ad altri bambini, agli adulti in modo che possano venire a vederla. Un mese dopo, lei tornò di nuovo. Come racconta la storia, l'angelo disse. Tornerò ogni mese. Siedi con me, Lucia, e ascolta le profezie che ti darò. Vi è stato detto che ci sono tre profezie, chiamate. I tre segreti. C'è un motivo per cui alcune di esse erano segrete, perché riguardavano cose che non si erano ancora nemmeno sviluppate, ne parlerò più tardi. Voglio concentrarmi su Lucia. Lucia commise un errore innocente, davvero non se ne rese conto. Stava per tornare per la quarta volta e sarebbe dovuta essere puntuale, il 15 di agosto. Ma commise un errore. Raccontò ad alcuni adulti che cosa stava facendo. Alcuni dissero che fece uno sbaglio e che lo disse agli anziani intorno a lei, o come narra la storia, forse lei lo confidò a qualche suora, ma qualsiasi cosa voi crediate, loro presero Lucia e la sgridarono. Dissero non puoi dire queste cose, bimbetta. Bimbetta senza alcuna conoscenza, senza esperienza, senza educazione. Tu non capisci. Gli angeli non parlano con i bambini. Loro parlano con chi ha la tonaca e l'autorità e la saggezza di sapere ciò che riguarda gli angeli. E Lucia disse. Io devo andare lì il 15. Bimbetta, tu non puoi fare questo. È blasfemo. Ti rinchiuderemo. La chiamerò una prigione spirituale. Lucia era in una prigione spirituale. Rese impotente, non poteva andare il 15 e il tempo passò. Ora, voi siete Lucia. Come vi state sentendo proprio adesso? Come vi state sentendo proprio adesso? Lucia pianse. Mancherò l'appuntamento con quell'angelo grandioso. La Vergine Maria non mi vedrà, non saprà che cosa pensare. Ma quando uscirò, andrò lì comunque. E dopo che trascorsero alcuni giorni, la lasciarono uscire. Lucia non fare queste cose. Non dire alle altre persone che hai visto la Vergine Maria. È la tua immaginazione di bambina, non è accaduto. Impara a comportarti. Il 19 di agosto, Lucia e i suoi due amici uscirono di nascosto dalla casa, per vedere se la Vergine Maria sarebbe apparsa. E lei lo fece. Interrompiamo la storia. L'angelo sapeva che cos'era accaduto a Lucia? Sì. Per l'angelo era davvero importante che giorno fosse? No. All'amore di Dio importava di Lucia? Sì. E apparve il 19, anziché nel giorno prefissato. E la storia d'amore continuò, tra l'amore di Dio e la bambina di nome Lucia. Per altre due volte. Molte persone, ecco perché voglio parlarne. Miei cari, proprio ora c'è un cambiamento su questo pianeta, che modificherà i paradigmi spirituali, letteralmente. Vi spostate da un'energia più vecchia, in cui avete fatto determinate cose, a un'energia più nuova. Da un'energia più vecchia, in cui dovevate stare attenti, perché c'era oscurità tutt'intorno, alla nuova energia, in cui potete ergervi e celebrare l'amore di Dio dentro di voi in modi diversi. E ci sono persone che vi diranno. Tutto questo non ha senso. Non c'è alcun cambiamento. Non avete alcuna autorità per fare questo. Non potete parlare a Dio in questo modo. Tornate dove eravate. Loro vi vogliono nella vostra prigione spirituale, proprio come Lucia. Vi diranno che non siete degni, vi diranno di tornare alle vecchie maniere, di prostrarvi un po', di soffrire un po', che non siete degni di fare ciò che state facendo. Loro non vedono il sole che sta spuntando. C'è un nuovo amore di luce e Dio, proprio come con Lucia. E proprio come con Lucia, Dio vi aspetterà finché non vi risveglierete, a prescindere dalla data, non importa quanto tempo ci vorrà, al percepire la verità e l'adeguatezza dell'essere in grado di vedere l'angelo dentro di voi a modo vostro. Sarete capaci di assumere l'innocenza del bambino, di spazzare via le tradizioni che dicono che non potete farlo. È il nuovo paradigma predetto dagli antichi e vi permette di trattare la luce in modo molto diverso. Voglio che vi ricordiate di questa metafora della piccola Lucia, perché l'angelo attese che lei uscisse dalla sua piccola prigione spirituale e la incontrò ancora e ancora. Anime antiche, voi vi state risvegliando a un nuovo tipo di energia, alla possibilità di ergervi e di guardare l'angelo e dire grazie per essere venuto. Io so chi siete. E sarà il sé superiore in ciascuno di voi, quello che vi ama, che è connesso allo spirito, senza giudizio, senza rabbia, senza regole, ad eccezione di una. L'amore. Non vi avrei detto queste cose se non fosse così. Mi trovo qui in questa terra per darvi informazioni grandiose, caro gruppo di anime altamente spirituali. Voi siete stati rimessi in libertà da una prigione spirituale antichissima. Proprio come Lucia. E così è.